Sicuramente noi anche come sindaci già tempo fa si fece notare che c'è un problema di metodo all'interno del comitato. Io non penso che serva personalizzare sulle singole persone, quanto invece serva trovare veramente tutti insieme un metodo perché l'occasione è imperdibile e solo se siamo tutti d'accordo e tutti lavoriamo nella stessa direzione possiamo dare voce e dare una risposta alle necessità o comunque all'opportunità che questo comitato mette a disposizione. Noi avevamo proposto di fare questo consiglio straordinario la settimana prossima quando il presidente Alberto Veronese aveva dato la disponibilità di venire. Oggi aveva detto che non poteva essere qua in quanto impegnato nella campagna elettorale della regione Lombardia quindi già quello di così parla di una persona che non è presente, penso sarebbe stato più utile farlo fra sette giorni.